Facciamo i complimenti per il vostro lavoro, impegnativissimo. Come sta andando, c'è anche qua l'assessore? Abbiamo appena incominciato. Qua a Positano, poi si sta lavorando pure a Tramonti, giusto? Tramonti, poi ai vaccini a Castiglione, poi ieri abbiamo iniziato i vaccini domiciliati sul territorio di Amalfi e Frazioni. Ah, bene, mi fa piacere. Si sta un po' tranquillizzando. Amalfi ha avuto un boom pazzesco, però stanno tutti quanti bene. Diciamo che questa fase di Covid è meno pericolosa. Esatto. Quante persone sono oggi? Più meno 90. 90 persone. Speriamo bene i risultati. Ringraziamo l'USCA per il lavoro che sta facendo. Assolutamente. E anche i volontari, ovviamente, che sono impegnati. Diciamo, ci sta un po' calmando un po' la situazione. C'è stato un momento di panico, un po' calmando. Va bene, grazie.